Tutti abbiamo un sogno. C'è chi ha un sogno. C'è chi ne ha più di uno. C'è chi ha un sogno grande che gli fa quasi paura. C'è chi ha paura ma non vuole arrendersi. C'è chi ha un sogno assurdo rivoluzionario magnifico. C'è chi crede di non averne perché forse ne ha troppi. C'è chi combatte. C'è chi si applica. C'è chi si arrabbia. Ma tutti hanno fantasia, forza follia per realizzare un sogno e a volte per toccarlo basta solo compiere un altro passo. C'è chi si applica. C'è chi? C'è chi si accedita.